Salve a tutti ragazzi, sono Charmin, CharminPokefan e come potete capire subito dall'inizio del video in questo video non aprirò nessuno bustino ma vi farò vedere le carte che mi mancano del set nero e bianco o nuove forze sì, perché praticamente non ho intenzione di comprare altre bustine cioè, prima voglio comprare tutti e tre i mazzi, tutti e due i mazzi tematici poi può darsi che aprirò cioè, la prossima settimana, anzi la prossima settimana ancora cioè, no scusate ragazzi, dopo le feste di Natale quindi verso il 10 farò una grande apertura e quella sarà l'ultima forse dipende dalle carte che mi mancano sarà una grande apertura non due bustine e quindi vabbè comunque voglio farvi vedere le carte che mi mancano perché voglio fare degli scambi prima è Ciu Ciu allora, le carte comuni e non comuni non è che vorrei scambiarle perché, sapete, sono comuni e non comuni ma, che so se qualcuno vuole mettermi le extra, sono molto accettate comunque, Ciu Ciu Ferrosite queste due sono comuni adesso passiamo alle non comuni Clang Martello di rompente pozione massima e basta però quindi queste tre non comuni adesso cominciamo con le rae Simisir Simipur Tundurus che è Olo Svubat questa Gotitel mi dovrebbe arrivare in un TCBM quindi non so se mi dovrebbe arrivare quindi non so non so poi Swanna Gigalit Eskadrill Crocodile Leopard Zero Arc Olo Clinklam Cobalion Olo Ampheson Bravery Olo Tornadus Olo e Tundurus Olo ora io potrei dare pure un bel po' di comuni e non comuni per una rara è rara Olo grafica certo la volontà dello scambio sta nella vostra è vostra perché io accetto qualunque scambio come rara ne ho poche quindi non so ci possiamo mettere d'accordo ma con questo è tutto ragazzi ciao da CiamCiam poche fan e mi raccomando contattatevi tramite messaggi privati ciao a tutti grazie a tutti